e ciao a tutti ragazzi sono l'unico e solo e oggi siamo ritornati alle origini siamo sugli under simulator lo so che da uno che fa clash of clans, clash of clans, clash of clans però basta basta e quindi niente direi che possiamo pensare di tipo fare un mission mode veloce vabbè tipo agli inizi del canale io ho portato gli under school che era un gioco bellissimo che mi sono divertito un sacco a fare e che rifarei ciò che rifarò più avanti se avrò voglia ancora di continuare il canale notte e tutti i ragazzi e se riuscirò porterò gli under school gli under simulator qua pronto bello sul computer perché devo portare gli under school e niente tipo aspetto quindi di riuscire a fare qualcosa di intelligente però come sapete io non sono intelligente il mio esercito su clash of clans pronto ok siamo nella mission mode random mission devo uccidere quello lì mi piace come cosa iniziamo bene sono anche raffreddato però nel frattempo c'è caldo quindi ovviamente toglierò la felpa così prenderò freddo e domani sarò raffreddato il doppio mi fa piacere quando i giochi ci mettono poco a caricare ne sanno di vita facciamo una foto dai che bello fare foto alla gente senza consenso posso correre in questo gioco di merda? no sto andando a... se guardate sulla destra vedete a quanti fps sta andando il gioco e chi se intende un minimo di fps capirà che sta tipo andando una merda devo trovare il tizio chi è il tizio? dov'è? ah sta andando a giubito degli splendidi capelli oh scusa quando ho fatto Bendy and the Ink Machine andava molto meglio cioè riuscivo ad andare molto meglio e Bendy andava di merda allora sicuramente non è nel bagno delle donne se non porco magari nel bagno degli uomini però non posso interarci io però intanto non mi sembra che ci sia nessuno quindi possiamo andare avanti in là? e vedere se tipo laggiù ma con questo salto no con il via salto? e... si e... lua devo trovare il tizio e killarlo senza ovviamente che mi vedrà nessuno non è così facile perchè prima di tutto il tizio non l'ho ancora trovato non so neanche che faccia abbia so che fa... che faccia ha però tipo non l'ho... non l'ho visto e che ti muovi così tanto? sto coso qua c'ha una sensibilità pazzesca giuro non ci riesco a giocare vedi qua di nuovo i bagni vediamo se si sta nascondendo il bagno perchè ha paura di me eh? secondo me ha paura di me quel cazzo che faccia povera una ragazzina così tenera così... cucciolosa ma vabbè qualcuno beh con cosa cambia per capelli? ok uuuh voglio vedere che capelli c'ho no 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 vediamo se magari ti puoi in la ahahah ahahah morte l'ho detto che sono una perdata vabbè ah quella con la bella chioma bionda ciao bella biondona mi dai il tuo numero? no eh eh bella mi dai il tuo numero? ok talk you for moment eh si e e vai su questo e eh sorry never mind cosa? ma c'hai pochissimo tempo per scegliere di cosa parlare ehm no 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 vai su su ehm apologize si apologize ok ehm ahahah mi aveva detto di piantare di impastidirla me l'ho fatto niente ehm forse laggiù dimmi che quello la perché no non devi andare di là dove cazzo vai? dove stai andando? raga è la è la fisso è quello la mi sa si è lui o no ehm ma è lui no un maschio non una femmina di cosa fanno? scopano? minchia le scuole in italia sono la metà di questa cioè si sta se io in questo momento stessi cercando una persona scuola mia l'avevi già trovata da un pezzo per il semplice fatto che la mia scuola è su due piani neanche da due piani quindi è ovvio che l'ho trovato subito ehm posso tipo no ehm che pettina tua c'ha questa? va bene ma questa musica è inquietante raga ma questa sta suonando Torcida di Big Fish dai raga se vi sentite la torcida è uguale questi rapper fanno a gara che c'è la più molle giovani g ma che non hanno mai visto un revolver baby g e mr cocktail valo così i printi peggio di harry potter se c'è botte da fare la farà potte mio dio porta crimini nella mia via rap a 18 anni quando è che spacciava il zio questa scena di infarto e questa scena rivedere il vivo perchè il modo più dolce di morire e vivere dai quella lì sicuro è rimanere qua da memoria raga ehm sapere che sono un appassionato di rap ci faccio poi i video sopra bene raga Torcida è finita adesso ehm perchè è la partita della parte lì c'è di Rodriguez allora ehm zii avete mica visto uno brutto che mi sta sulle palle? no ehm ah ma questa è una foto tipo foto posso farmi una foto posso farmi una foto me la fate una foto grazie infoclub magari di qua mi smanto non trovo raga giuro ho girato mezza scuola magari attendo io ho girato un quarto però per me mezza scuola è gigantesca sta roba ehm dov'è il coso per entrare? devo sentrare tipo non posso entrare hai vietato l'accesso ai Saiyan ti prego ma cos'è sta a fare? parliamo tipo parlami di qualcosa ehm tipo tipo questo 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 ehm vai non riesco non riesco raga non mi fa parlare di niente uh kaiden ehm si va facciamo che me ne vado che tanto qua la gente è più evidente in pratica io mi rifiuto ragas cioè non lo trovo non lo trovo incredibile ma è questo qua sto ma conciuttiati su che sei scemo scema goku che goku sei credi in per l'intelligenza ah eccolo qua allora no non voglio tornare al menu cosa? no vabbè raga allora devo un po' aggiustare impostazioni e tutte le cose perchè così è veramente fastidioso quindi tipo niente in sti giorni ci lavorerò e così magari riuscirò a portare anche l'episodio sensato di Ander Simulator basta e non un episodio cazzeggio detto questo per questo video è tutto se il video vi è piaciuto come solito lasciate un commento commento e mi piace iscrivetevi al canale se siete se siete nuovi noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti